Signor Ministro, Ministro Costa, no no non scappi Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, guardate sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando, questa è Taranto, abbandonata a se stessa. Signor Ministro, Ministro Costa, no no non scappi Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, guardate sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando, questa è Taranto, abbandonata a se stessa. Signor Ministro, Ministro Costa, no no non scappi Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, guardate sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando, questa è Taranto, abbandonata a se stessa.